opera di un italiano quando improvvisamente il quadro si frantuma sotto i vostri occhi nel panico raccogliete tutti i frammenti da terra li ricomponete ci riuscite ma vi accorgete che ne manca un tassello siete nei guai però io posso aiutarvi perché sono entrato nel vostro sogno circa metà anzi nel vostro incubo e ho raccolto tutti i frammenti da terra compreso quello che sarebbe andato perduto fra poco signori signori ecco il vostro incubo in questa busta ci sono 100 tasselli fra questi 100 tasselli c'è anche quello che manca per completare l'opera ora insieme lo ritroveremo visto che voi da casa non potete interagire con me lo farà per voi niente meno che stefano masciarelli stefano per favore vuoi venire ad aiutarmi o ecco di ciao grazie mille ciao eccomi qua stefano prima di tutto vorrei che mescolassi questi tasselli nella borsa metti pure dentro la mano ecco non sono un grande mescolatore sembra un po di essere ritornati a natale pescane una manciata una manciata allora io vorrei che tu controllassi innanzitutto che sono mescolati bene falli magari vedere in telecamera ovviamente devi vedere che sono tutti diversi vero se perfetto mettili in borsa tutti si 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 ascolta stefano ti sarai reso conto che non sarà semplice trovare il tassello che manca per concludere l'opera e ben no però ti aiuterò io guiderò la tua scelta per mezzo del fuoco vedete questo questo foglio di carta ecco ho scritto sopra una formula magica ora stefano brucerò questo fogliettino tu dovrai fissare la fiamma non appena la fiamma si sarà spenta dovrai chiudere gli occhi e rispondere a una semplice domanda sei pronto d'accordo attento dimmi il tassello che stiamo cercando sarà il primo che sorteggerai oppure il secondo il terzo il quinto il decimo quale sarà stefano dimmi il settimo pezzi li hai verificati tu li hai mescolati lentamente uno per volta mostrandoli in telecamera pesca sette tasselli uno due due si tre quattro cinque sei attenzione stefano concentrati per l'ultimo tassello questo è il pezzo decisivo l'ultimo appoggiali pure sul tavolo se vuoi con gli altri si il settimo prendi il settimo quello che tu hai scelto sotto l'effetto del fuoco mostra in telecamera perfetto ora qui sotto c'è l'opera del nostro sogno la gioconda come vedete ne manca un frammento stefano puoi avvicinarti per favore se l'esperimento è riuscito ovviamente questo sarà esattamente l'unico tassello che ci serviva per completare l'opera quindi signori 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 votate alex pettinaroli perché l'uomo che salvò la gioconda grazie a tutti grazie a tutti